buon martedì sera a tutti questo è l'appuntamento degli amici l'appuntamento della nostra famiglia per scambiarci un saluto affettuoso per fare insieme una piccolissima preghiera per augurarci una notte serena e un riposo tranquillo ricevendo la benedizione di gesù ti adoro mio dio e ti amo con tutto il cuore ti ringrazio di avermi creato fatto cristiano e conservato in questo giorno perdonami il male oggi commesso e se qualche bene ho compiuto accettalo custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli la tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari amen il signore sia con voi vi benedica dio onnipotente padre e figlio e spirito santo amen buonanotte a tutti e a domani grazie a tutti